Come esperienza è stata una bella esperienza internazionale, io ho seguito inizialmente la scherma, i sei giorni della scherma a Baronissi e poi mi sono andato a vedere un po' il tiro con l'arco allo stadio Partenio. Devo dire che Baronissi è stata una cosa ben studiata, ben organizzata, a parte qualche piccolo inconveniente il primo giorno, ma ci sta perché quando si organizza una kermesse così importante, delle piccole defaianze sono sicure che devono esserci perché devono poi essere migliorate. Un pubblico spettacolare, il palazzetto sempre pieno e le medaglie che sono arrivate a cascata per quanto riguarda la nostra nazionale, cinque medaglie d'oro di cui quattro solo nel Fioretto, cinque bronzi e tre medaglie d'argento per la nostra nazionale, che è stato anche un bottino abbastanza importante, considerato che due anni fa a Tavei non siamo riusciti a portare più di sei, sette medaglie, adesso non ricordo bene. A proposito della scherma, volevo chiederti, può essere questa delle universiadi, visti anche gli ottimi risultati che ce le encavi, una vetrina importante per la scherma, per far sì che questa disciplina prenda sempre più piede? Sicuramente le universiadi sono una vetrina per tutti gli sport che vengono portati, anche per quelli che non sono presenti, perché il movimento sportivo che si porta in una città, il movimento sportivo che viene vissuto direttamente dai ragazzi, anche se non direttamente nel loro sport, comunque è un input per migliorare e per andare forte nella propria attività sportiva.